Si sono presentati in questura in piena notte raccontando ai poliziotti di essere appena stati minacciati da un uomo armato, vittime dell'aggressione tra i trentenni padovani. Il gruppo intorno a luna di notte stava passeggiando in via Tergola, nel quartiere Sacro Cuore a Padova. All'improvviso uno sconosciuto armato di pistola li ha minacciati e si è fatto consegnare soldi e telefoni, poi è scappato a piedi in direzione di via Po. Dopo la denuncia i poliziotti hanno cominciato subito le ricerche del rapinatore che al momento sembra essersi dileguato nel nulla. Grazie.